Diciamo che questo è un po' un libro figlio del lockdown, quindi di quest'inverno bizzarro che comunque ha coinciso anche con le celebrazioni del 700esimo anniversario della morte di Dante e unisce anche la mia passione per il Medioevo e per il cibo in generale, di cui mi occupo comunque da tanti anni attraverso la promozione di prodotti enogastronomici marchigiani. Il libro ha riservato diverse sorprese perché soprattutto ha voluto cercare di capire quale fosse il cibo al tempo di Dante, quindi che cosa si mangiava nel Medioevo e soprattutto come. Quindi nel libro verranno trattati i cibi che c'erano all'epoca, ma soprattutto le tradizioni conviviali, quindi seguendo le tracce di Dante, una volta che lui ha lasciato la sua amata toscana ed è andato in giro per l'Italia, mi sono chiesta che cosa avesse potuto trovare nelle corti che l'hanno ospitato o nei monasteri o nelle taverne, quindi analizzare un po' il cibo nelle varie sfaccettature, ma soprattutto a livello locale, quindi non mi sono spinta oltre il centro Italia e oltre il 300, quindi né troppo avanti né troppo indietro nel Medioevo che ricordiamo dura comunque mille anni e l'Europa l'ho concentrata in realtà nella zona del centro Italia spingendomi al massimo fino a Venezia dove lui aveva avuto una delle sue ultime ambasciate prima di ritornare a Ravenna dove purtroppo poi morì. Quindi diciamo che questo è un viaggio attraverso un cibo nostrano, locale, soprattutto sorprendente perché mi sono chiesta che cosa lui avesse potuto provare a Venezia davanti a un piatto di saor che sicuramente non lo conosceva, quindi è stato sorprendente sapere quanto era variegato anche all'epoca il cibo. Dante non era un uomo molto goloso o perlomeno, forse lo sarebbe anche stato, ma aveva molta paura della chiesa, aveva molta paura dei precetti che rendevano l'uomo medievale pericolosamente goloso. Quindi lui era un uomo molto morigerato, era un uomo che mangiava poco, non beveva vino, stava molto attento. Magari la ricerca storica ha portato anche alla scoperta di ricette del tempo. Sì, ne ho trovato qualcuno molto interessante, riproponibile anche al giorno d'oggi, ho voluto inserirle nel libro, quindi tutto sommato scopriamo che non abbiamo inventato niente se non i prodotti che naturalmente sono stati importati dall'America, quindi il menù medievale era naturalmente senza pomodoro, senza patate, senza cacao, senza caffè, però è altrettanto gustoso e dato che stiamo andando anche in questo periodo verso un regime alimentare abbastanza vegetariano, ho ritrovato tante ricette di zuppe e di piatti con le verdure che ho voluto proporre anche proprio qui nel libro.